La tecnologia fa parte ormai della vita di tutti, ma proprio di tutti. Anche dei talent del mondo Discovery? Certo! Per raccontare le ultime novità i tech di Samsung abbiamo chiesto a Paola Marella, Chef Rubio e Carla Gozzi di svelarci i loro lati più nascosti, le loro passioni, le loro storie e il loro rapporto con la tecnologia nella vita di tutti i giorni. Bravo, ottimo lavoro! Da questa idea è nato Ti presento i nostri, tre ritratti dei top talent di Real Time e D-Max in onda su entrambi i canali. Paola Marella ci ha lasciato curiosare in casa sua. Ho la fortuna di avere un marito che cucina molto meglio di me. Sarò sincera, mi sono sempre sentita tecnologicamente alla pre-storia. Chef Rubio ci ha mostrato la sua passione per la fotografia. Con la tecnologia resto in contatto con il mondo. E non solo. Video, migliora, provoque, deteriora, segue. E Carla Gozzi ci ha svelato le sue passioni e come si rilassa. Partecipo a seminari di tutti i tipi, dalla tecnologia all'arte. Con la magia del wifi, la musica mi accompagna in tutta la casa, direttamente dalla tv. Un promo on air su entrambi i canali ha lanciato gli episodi. Mentre Paola e Chef Rubio hanno mostrato, con due spot ad hoc, Samsung Wishlist, l'applicazione online che Samsung ha dedicato ai regali di Natale, che includeva tutti i device usati dai talent negli episodi. Ti presento i nostri. Vero e proprio branded content è stato accolto dal pubblico in modo estremamente positivo e ha dimostrato come i talent discovery abbiano superato i confini del loro mondo di appartenenza. Ti presento i nostri. È stata la prima operazione cross tra D-Max e Real Time. E la presentazione dei talent ha costituito il primo esperimento autobiografico dei canali discovery.